La mia esperienza alla Claudio Pistolesi Enterprise è stata un'esperienza fantastica, è stata un'esperienza formativa, un'esperienza formativa non solo dal punto di vista tennistico, dal punto di vista accademico, preparativo, ma soprattutto un'esperienza unica dal punto di vista culturale. E anche di valori. Perché? Perché Claudio innanzitutto non è solamente un grande leader, ma anche una persona che ci tiene. E ovviamente quando arrivi a Jacksonville, a casa sua, e ti alleni nei suoi campi, una cosa è fondamentale, il rispetto. La disciplina, che sono valori che ormai, soprattutto oggi, vengono dimenticati delle volte. E quindi sai, a 19 anni, questo era una cosa fondamentale per me capire. Entrare in un contesto come l'ora, la CPE, dove ti vengono dati questi valori, ma non solo, ti viene anche insegnato il mindset giusto per prepararti al college americano, per prepararti a un'esperienza formativa che poi sarebbe l'università, qui in America, con il tennis. Per poi non dimenticare anche dell'aspetto tennistico. Insomma, Claudio, non lo devo dire, primi 70 al mondo, ma soprattutto, come ho detto prima, una persona che ci tiene. Mi sono laureato l'anno scorso e sono molto felice di questo percorso. E Claudio non smette mai di scrivermi, di sentirmi, di fare in modo che i contatti rimangono. E io ovviamente sono molto felice di mantenere questi contatti con lui. Ma lui lo fa con tutti i suoi studenti, tutte le persone che vengono alla CPE, perché lui è una persona che ci tiene. E' una persona che mi ha insegnato i valori, è una persona che mi ha insegnato, mi ha dato il mindset giusto. E devo dire che è grazie a lui, soprattutto, che sono riuscito a fare quello step successivo ed avere il coraggio di poi mettermi in proprio e venire qui nel college, in America. Quindi, se guardi questo video in questo momento e devi decidere se è il caso di andare alla CPE o meno, io ti dico, la decisione giusta, la decisione più importante della tua vita, la puoi fare adesso e andare alla CPE. Perché è un'esperienza che ti cambierà completamente. Stare a fianco a una persona come Claudio, che è un grande leader, un grande professionista, e una persona che ci tiene è una cosa molto importante e non accessibile a molte persone. Quindi io sono stato uno delle poche persone che sono fortunate di avere questa possibilità. Se anche tu hai questa possibilità, fai la scelta giusta che vedrai che ne sarai felice.